La trasformazione digitale della pubblica amministrazione richiede lo sviluppo di una cultura e di competenze adeguate sia in termini di competenze di base per tutto il personale che di competenze per gli leadership, per le figure con responsabilità manageriali, per migliorare la capacità di gestire i processi di innovazione. La digitalizzazione non è solo una questione che riguarda i CT, non è un processo relativo al funzionamento di hardware e software, ma è un cambiamento che riguarda le persone e le competenze trasversali che ogni individuo in una moderna organizzazione deve possedere per apprendere, collaborare, risolvere i problemi, svolgere la routine lavorativa e raggiungere gli obiettivi. In questo contesto è fondamentale il ruolo degli leader. Chi è il leader? È una figura in grado di cogliere le opportunità che l'innovazione tecnologica offre e calarle con successo nel contesto organizzativo e amministrativo del settore pubblico per favorire il cambiamento. Potremmo dire che è un leader chiamato a introdurre e guidare il cambiamento in un contesto di trasformazione digitale. Le competenze e attitudini di un leader vanno dalla profonda cultura e conoscenza del mondo digitale alle capacità individuali di relazioni di comunicazione, alle competenze organizzative e di gestione del cambiamento. In più, calandosi nel mondo delle pubbliche amministrazioni, è necessario che possieda una conoscenza profonda del contesto organizzativo in cui operano e, nel nostro caso, delle competenze manageriali e dei processi della pubblica amministrazione per trasformarli in senso digitale. Un leader deve avere visione del futuro, cioè capacità di comprendere e anticipare come si svilupperà il mercato, per noi il sistema della pubblica amministrazione, deve essere ambasciatore dell'innovazione. L'e-leader è il primo testimonial della rivoluzione digitale all'interno della propria organizzazione. Deve far percepire l'innovazione come qualcosa di piacevole. Deve avere disponibilità ad accettare l'errore nello sperimentare strade nuove e ad imparare dalla scelta rivelatasi sbagliata. Deve avere capacità di apprendere rapidamente e di adattarsi a contesti mutevoli. La capacità di essere leader, quindi, non è data solo dalla conoscenza approfondita della propria materia di competenza, dall'esperienza nel ruolo e dalle competenze tecnico-professionali. Oggi queste competenze da sole non bastano più e servono a poco senza alcune soft skill. Cosa sono le soft skill? Il termine inglese inganna. Non si tratta di competenze morbide da prendere sotto gamba, ma di competenze comportamentali che non sempre si possono apprendere. Le soft skill sono caratteristiche personali importanti in qualsiasi contesto lavorativo perché influenzano il modo in cui facciamo fronte di volta in volta alle richieste dell'ambiente lavorativo. Sono competenze comportamentali, trasversali, necessarie per gestire i gruppi di lavoro, gestire i progetti, pianificare attività, risorse e tempi. Sono le competenze che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico. Le soft skill sono tipicamente difficili da osservare, quantificare e misurare. Sono quelle di cui si ha bisogno per la vita di tutti i giorni, così come per il lavoro. Il corso online soft skill per le leadership mira quindi ad approfondire le competenze comportamentali individuali e le competenze organizzative di un e-leader all'interno delle organizzazioni in generale e della pubblica amministrazione in particolare. Partendo da alcune situazioni critiche tipiche della pubblica amministrazione, in ciascun modulo vengono affrontate le competenze che possono aiutare a far fronte di volta in volta alle richieste dell'ambiente lavorativo in una logica che consenta la riflessione e possa portare a sviluppare le competenze richieste. L'obiettivo del corso è quindi fornire le conoscenze di base sulle competenze trasversali per gli leadership e riflettere su come svilupparle per migliorare i propri comportamenti lavorativi. Il corso è articolato in quattro moduli. La logica è quella di legare ciascun modulo a un tema o situazione critica tipica della pubblica amministrazione è far avviare il modulo con un'unità didattica in cui si presenta il caso o la situazione critica e a questo caso si collegano le soft skills che verranno trattate poi con i diversi materiali. Il modulo 1, apprendimento e cambiamento, presenta le competenze legate all'approccio individuale verso l'apprendimento e il cambiamento, aiutando a riflettere su come sia possibile vincere le resistenze e rispondere alle richieste di un ambiente lavorativo in continua evoluzione. Vedremo ad esempio l'apertura mentale, la flessibilità, il pensiero critico, quali competenze che aiutano a superare gli ostacoli al cambiamento. Il modulo 2, comunicazione e relazione, illustra alcune competenze legate alla sfera relazionale dell'individuo nell'organizzazione, approfondendo in particolare gli aspetti legati alla comunicazione, alla conduzione del gruppo e alla gestione del conflitto. Affronteremo la comunicazione organizzativa, la capacità di gestire un gruppo di lavoro, la gestione del conflitto e la negoziazione. Il modulo 3, capire l'organizzazione e agire nell'organizzazione, presenta le competenze legate alla comprensione del funzionamento delle organizzazioni e all'agire responsabilmente per orientarne i processi di cambiamento. Parleremo di pensiero sistemico, di capacità di individuare e risolvere i problemi, di assunzione e di responsabilità personale. Il modulo 4, progettare l'azione ed essere efficienti, affronta le competenze legate all'ottimizzazione delle risorse in funzione di un obiettivo organizzativo. Parleremo di gestione dello stress, del tempo e delle informazioni, di visione degli leader, di capacità di fare rete e di altre competenze che sono la premessa per portare il cambiamento nell'organizzazione. Il corso si svolge interamente online e prevede la fruizione dei contenuti in apprendimento autonomo. Potrete quindi visualizzare i materiali del corso nei momenti che preferite, da qualunque postazione internet. Durante il corso i partecipanti sono affiancati da un tutor che fornisce soprattutto un supporto tecnico per l'utilizzo degli strumenti online. È sempre il tutor che fornisce le indicazioni all'inizio di ogni settimana sulle attività da realizzare, ricorda le scadenze e aiuta a rispettare le consegne. Il corso prevede diverse tipologie di materiali didattici a seconda della tipologia di contenuto erogato. Ci sono le lezioni multimediali, sono delle pillole informative di approfondimento che forniscono informazioni di base e di inquadramento del tema. In ciascun modulo ci sono due o tre lezioni multimediali che affrontano le competenze oggetto del modulo. Queste lezioni multimediali permettono di riflettere su come ciascuno di noi si comporta in relazione alla competenza trattata e di capire anche come svilupparla. Ci sono le video lezioni in cui io vi guiderò a riflettere su alcune scene tratte dai film e collegate ai diversi temi del corso. Ci sono poi le interviste a referenti istituzionali e funzionari di pubbliche amministrazioni per la presentazione di esperienze rilevanti sulle competenze trattate nel modulo. Durante il corso avrete anche dei test di autovalutazione, sono dei quiz, uno per ciascun modulo e in più uno alla fine del corso, a cui rispondere all'interno della piattaforma e-learning. Le esercitazioni sono due, sono volte a supportare i partecipanti nell'apprendimento dei contenuti, devono essere completate nelle date che il tutor indicherà sul forum all'avvio dell'attività. Sono una sorta di caso, prevedono una narrazione articolata in diversi momenti all'interno della quale il partecipante debba svolgere dei compiti. Le esercitazioni sono sottoposte a peer review, revisione tra pari, in modo che i partecipanti possano valutarsi l'un l'altro apprendendo anche dal momento di confronto. Il corso, della durata di 20 ore, si svolge interamente online, in apprendimento autonomo nell'arco di 5 settimane, l'impegno medio è di 4 ore settimanali. La partecipazione al corso online Soft Skill per le Leadership è aperta ai dipendenti e funzionari della pubblica amministrazione italiana ed è assolutamente gratuita. L'iscrizione avviene attraverso la piattaforma Eventi.pa all'indirizzo eventipa.formes.it